Ed ecco qui la vostra pappa è permessa, i piccolini sono stati liberati, ciao Zeno Camillina, già abbiamo diciamo salutato qualcuno e ora iniziamo a questa giornata e ci prendiamo un caffè un caffè anche noi, mentre voi fate la pappa mi sembra pure giusto che anche io mi piaccia un caffè, che ne dite? Ma no, così, ti prendo un attimo, così, i gattini, questa è Reggio Calabria Reggio Calabria